ecco le paleoliche sotto scandale sembra che quella che non mi ascolta lo faccio apposta e corre corre a più del dovuto per non far vedere appunto il movimento delle pale adesso sono coperte dalla collinetta ma come dicevo al video che ho dovuto interrompere prima scendendo a crotone verso crotone prima e per la prima volta ho visto le pale le pale girare non non so da quando lo stiano facendo non so nemmeno se se appunto le pale stiano producendo già sono in fase di produzione nel senso che siano stati effettuati tutti i collegamenti ecco si vede solo il braccio in questa immagine il braccio di una delle pale eccola adesso la si vede un po dicevo non so se sono stati fatti appunto tutti i collegamenti se l'impianto è finito e quindi sono in fase produttiva la signora quella che non mi ascolta forse vuole salutare i miei ospiti del mio sito youtube non so se si riesce a cogliere il movimento delle pale da queste immagini di certo non è uno dei miei migliori servizi col cellulare è in una macchina guidata da chi conosce poco il freno ecco se si è chiamata da sola e il video diventa un google google art google map street google più che altro in video con la salita la famosa salita della scorciatoia per per scandale in attesa di di rivedere all'uscita dalla collina eccole un attimino le le pale che in questo momento stanno girando in senso anti orario l'unica cosa di di bello insomma per chi piace è in sottofondo onestamente non so se la state ascoltando della la musica dei dei moda un video un po bucolico credo che si dica si dica così con molta campagna spesso mosso volevo dare l'idea eccole adesso si vedono abbastanza bene ma logicamente siamo in velocità sempre più veloce grazie a tutti